Vuole diventare realtà il ponte sullo stretto, con la bozza di decreto leggere cante disposizioni urgenti per la sua realizzazione con ben sette articoli. Per il collegamento stabile tra la Sicilia e il resto d'Italia, ritorna la società stretto di Messina, S.P.A., alla quale si legge nel testo, parteciperanno RFI, ANAS, le regioni Sicilia e Calabria, nonché in misura non inferiore al 51%, il Ministero dell'Economia, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa. Entro il 31 luglio 2024, si legge nella bozza del DL, è prevista l'approvazione del progetto esecutivo, con il crono programma di realizzazione dell'opera e tutti i dettagli che porteranno dalle parole ai fatti l'impresa.